Siamo la società di servizi di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e attraverso soluzioni personalizzate sosteniamo la competitività e lo sviluppo delle imprese da oltre 30 anni. Mi chiamo Umberto Caccioppoli, sono l'amministratore della Fides Consulting, un'azienda che opera su tutto il territorio nazionale ed eroga servizi di Information Technology. Grazie alla frequentazione del mondo di Assolombarda Servizi siamo riusciti ad avere accesso alla finanza agevolata e a credo di imposta per la ricerca. Assolombarda Servizi ci ha anche aiutato a far sì che tutta la ricerca effettuata negli anni precedenti potesse essere impacchettata e capitalizzata per poter lanciare poi sul mercato questi prodotti. Siamo di Faber System, ci occupiamo di fornire servizi di gestione documentale. Grazie ad Assolombarda Servizi abbiamo aperto con successo i nostri orizzonti su nuovi mercati con professionalità, rapidità ed efficacia. Ci siamo rivolti ad Assolombarda Servizi in quanto necessitavamo di un'assistenza legale. Noi come media azienda abbiamo una dimensione tale per cui non abbiamo ancora al nostro interno un ufficio legale ma ci troviamo molto spesso ad affrontare temi di una certa complessità. Per questo, consapevoli del fatto che Assolombarda Servizi avrebbe potuto offrirci delle elevate professionalità in tal senso, ci siamo rivolti loro, abbiamo spiegato bene la nostra esigenza che loro hanno saputo interpretare indicandoci un professionista adeguato con il quale ci siamo trovati molto bene. Assolombarda Servizi, soluzioni concrete per lo sviluppo delle imprese.